Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in via dell'Arboreto. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento Metodi TRG. Andiamo ad analizzare la giornata di giovedì 15 novembre, giornata che sarà ancora calda e soleggiata per il periodo. Avremo qualche nuvole di passaggio nel primo pomeriggio, soprattutto in Appennino, ma senza rischio di precipitazioni. Nel resto della regione avremo cieli poco nuvolosi o soleggiati per tutto l'arco della giornata. Avremo, come detto, ancora le temperature soprattutto massime, sopra la media del periodo, che si attesteranno intorno ai 20-22 gradi, mentre avremo ancora escursione termica, in quanto le temperature minime si attesteranno intorno ai 6-8 gradi. Anche per questa giornata, attenzione alle nebbie di primo mattino, che comunque saranno in rapido dissolvimento durante metà mattinata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.